ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio di oggi è il cuervo i sovrinos busiador chi mi segue avrà visto che nell'ultimo video in gioielleria mi è capitato per le mani l'orologio oggetto della panoramica odierna in realtà non è che mi è capitato per le mani per caso c'era un iscritto al canale che aveva fatto la domanda aveva posto la questione di poterlo vedere io l'ho mostrato ed è in quel momento che mi sono reso conto che non avevo mai fatto una panoramica non l'avevo mai testato un pochino come si deve diciamo così no e quindi mi sono fatto prestare l'orologio dal buon giacomo per chi non lo sapesse il buon giacomo è il titolare della gioielleria pasquale di domenici di viareggio che è parte dell'ufficiale del canale che mi mette a disposizione gli orologi spedisce tutta italia e fa dei prezzi di favore quindi contattatelo sia per il marchio di quel concessionario che per altri basta andare sul sito e lo vedete ma torniamo a bomba all'orologino questo orologio qua è particolare no io sono un estimatore di quervo e sovrinos posseggo il l'istoriador asturia quel quadrante rosso un orologio che userei dire classico classicheggiante anche se di dimensioni 40 mm per un orologio classico non sono poi così poche però è in stile con l'orologio cioè con il marchio fa questi orologi così diciamo un po barocchi un po vistosi un pochino particolari ma se non altro con un'identità loro e questo bus ad or altro non è che il diver della casa la proposta diver della casa no quasi ogni marchio propone un diver e il bus ad or è il diver di quervo e sovrinos come vedrete è molto particolare a me piace comunque se non lo portavo sul canale mi occorre però precisare che il vetro il trasparente lo zaffero è particolarmente convesso molto bombato e mi ha arrecato qualche difficoltà durante le riprese talmente bombato che va a prendere riflessi da ogni dove nella stanza proprio però per contro non inficia la leggibilità è solamente una questione di riprese volevo mettere le mani avanti se nel caso vedeste che le riprese non sono all'altezza della situazione o più o meno come al solito è un po di difficoltà l'ho trovata comunque adesso prima di girare la camera di vedere l'orologio vero e proprio vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo longin ultracron un orologio del 1967 con il calibro 431 a 36.000 alternanze orarie il primo orologio con 36.000 alternanze il primo funzionante l'anno prima ci fu il girare per go giromatic se non vado errato che però aveva dei problemi di affidabilità nel senso più che altro di mantenere la carica cioè durava poco che te ne fai di un orologio se la carica dura poco se non riesce a caricare bene quindi questo qua è considerato il primo funzionante diciamo così e per contro questo 35 mm proprio per dimostrarvi che si possono indossare 35 mm specie per gli orologi vintage come i 43 42 di questo bursador con forma quadrata che sembrano ancora di più ma non voglio anticiparvi troppo dai giriamo la camera guardiamo la panoramica e poi ci vediamo qua come al solito per le conclusioni finali apriamo le danze elencando i risultati ottenuti dalle misurazioni sul campo diametro cassa 42.6 mm spessore 15.9 ingombro trasversale al polso 53.2 e interasse ansa da 22 mm un orologio spavaldo non ci sono dubbi un diver squadrato che fa delle forme spigolose e dei colori pastello il proprio cavallo di battaglia come ho detto in apertura è il vetro molto convesso a definire gli oltre 15 mm di spessore un vetro zanfiro che al centro è notevolmente distante dal piano quadrante ma che tutto sommato non incide granché sul risultato visivo spessore che si spalma infatti poi sulle generose dimensioni della cassa rendendo il tutto ben proporzionato credo si tratti di un orologio che può essere indossato anche da chi ha un polso piuttosto contenuto lo stile del bussi ad ora è questo vuole essere ben evidente e sovradimensionato ed è per queste caratteristiche che deve essere apprezzato diciamo che questo è il tratto distintivo dei cuervo e sovrinos essere barocchi e vistosi rimanendo legati al passato e agli stilemi della natia cuba stilisticamente parlando ci troviamo di fronte ad una cassa strutturata in maniera particolare un design spigoloso che è conseguenza di alcune particolari scelte tecniche la prima delle quali è facilmente intuibile ossia quella leva sul lato destro che ha la funzione di sbloccare la rotazione della ghiera interna premendolo si liberano gli ingranaggi e tramite la corona d'ore 2 è possibile ruotare la bug rilasciando la leva blocchiamo nuovamente il sistema si vede chiaramente che la simmetria della cassa vede il suo punto cruciale nei pressi della corona d'ore 2 che tra l'altro appare anche cromaticamente significativa in quanto rivestita di gomma blu al fine di facilitare il grip la seconda particolarità mi ha invece sorpreso in quanto non immediatamente intuibile la cassa è realizzata in due parti tre se consideriamo anche il fondello e quattro addirittura se prendiamo un esame anche la lunetta in pratica è presente una superficie spiovente posta tra la lunetta e il corpo centrale infatti ingrandendo sono visibili le fessure di separazione il risultato è che il corpo centrale è preso a sandwich tra questa superficie e il fondello una soluzione particolare probabilmente dovuta alla realizzazione del sistema di bloccaggio della bag interna questa separazione di elementi fa in modo che anche la finitura superficiale segua questo percorso con parte superiore corpo centrale satinati e i rispettivi sottili lati lucidati una piacevole alternanza che trova il suo culmine nella superficie della lunetta a sua volta lucidata a specchio un altro elemento caratterizzante è la corona di carica posta ad ore 9 una soluzione poco vista che qui risulta obbligata dalla presenza del sistema presente ad ore 3 durante il testo quindi manovrato e settato l'orologio utilizzando la mano sinistra cosa per me scomoda e innaturale ma nel momento in cui andavo a reinserirla il tutto era perfettamente fluido riuscivo ad avvitarla senza impuntamenti utilizzando la sinistra e questo la dice lunga su quanto l'accoppiamento sia preciso e ben realizzato accoppiamento ottimale e guarnizioni che sono poi presenti anche in tutti quei punti deboli sensibili alle infiltrazioni quali la seconda corona e il pulsante di sblocco con una impermeabilità dichiarata di 200 metri ogni dettaglio tecnico deve essere curato nei minimi particolari e a tale proposito troviamo il fondello a vite che è cieco e sul quale troviamo un basso rilievo riportante la silhouette di uno scuba man lavorazione molto piacevole nel suo insieme che però vede il punto debole nelle scritte lungo la circonferenza l'incisione al laser così superficiale non mi sembra un effetto di gran pregio poco male visto che siamo nei pressi parliamo ora del calibro ciò che muove il nostro bus eador è il soprod p024 ho parlato di questo calibro in un video specifico che vi invito a guardare se avete intenzione di approfondire velocemente soprod fa parte del gruppo festina e opera da diversi stabilimenti nella svizzera settentrionale in questa sede mi limiterò a dire che si tratta di una novità in casa cuervo e sovrinos i primi bus eador incassavano infatti il calibro peso e sono rimasto a quanto sorpreso di trovare questa piccola novità ruotiamo l'orologio e diamo uno sguardo al quadrante come detto in precedenza è la ghiera interna a caratterizzare l'orologio e anche al di sotto del vetro gioca un ruolo fondamentale in primis perché va a formare una sorta di congiunzione naturale verso il quadrante ed in secundis per il ruolo cromatico che svolge infatti se il quadrante appare a degradare esternamente verso il nero la ghiera di un celeste pastello completamente in tinta unita va da sé che il contrasto è così forte da farla apparire come il confine esterno definito e soprattutto gli consente di essere ben leggibile anche grazie ai primi 15 minuti che sono riportati in rosso su fondo bianco non da meno è la leggibilità generale del quadrante stesso il vetro molto converso rende difficoltose le riprese ma ad occhio nudo nella realtà non pone alcun ostacolo insormontabile molto fa anche la dimensione degli accenti presenti sia gli indici che le sfere appaiono essere sovradimensionati ed è praticamente impossibile lamentare qualsivoglia mancanza piuttosto originale poi è la sagoma delle lancette con quella dei minuti bordata di rosso al fine di renderla distinguibile in fin dei conti è quella deputata ad indicarci il tempo di immersione e riuscire a distinguerla al volo è fondamentale apprezzo poi come al solito il barocco logo di cuervo e sovrino sposto ad ore 12 in rilievo con finitura metallica e ben visibile a bilanciarlo troviamo poi la finestra data ad ore 6 anch'essa con un minimo di finitura lucida grazie al bordo ottagonale che la circonda e che fa da contraltare al logo insomma gli unici due elementi luccicanti si trovano simmetricamente opposti devo poi fare un plauso alla resa in assenza di luce tutti gli elementi necessari ci restituiscono luminescenza ma anche quelli meno indispensabili come ad esempio i numeri sulla bag interna manca completamente nei primi 15 minuti però il che è sicuramente una scelta alla quale però non trovo spiegazione visto che il 15 non è illuminato e si rischia di arrivare al 20 in ogni caso io preferisco puntare il 45 sulla sfera minuti per avere il dot come riferimento dei 15 minuti esauriti è più intuitivo non resta che di squisire a riguardo del bracciale un maglia milanese ben fatto spesso e a trama insolitamente fitta c'è da dire che su questo tipo di orologi con spazio tra le anse dritto la resa è ottimale non lascia troppa luce anche perché il cilendretto terminale è piuttosto spesso e chiude bene gli spazi dal lato opposto c'è la chiusura deployant singola con doppia chiusura e pulsantini di sicurezza anche qui eccellente qualità e un bel perlage a decorare la cerniera interna nel mezzo però ho notato che non vi è la possibilità di rimuovere o aggiungere maglie gli spezzoni di bracciale sono in un pezzo unico per regolare la lunghezza generale ci sono però ben sette fori da un lato e tre dall'altro la riduzione totale di 17.5 millimetri da un lato e 6 millimetri dall'altro per un totale di circa 22 millimetri io spero che possano essere sufficienti per raccorciarlo al minimo e renderlo indossabile anche da un polso esile forse è il caso di provarlo prima di acquistarlo segnalo infine un'efficace soluzione scogitata ossia le due alette di metallo che fungono da guida e impediscono al bracciale di piegarsi in maniera anomala anche quando fissato all'ultimo foro possibile ottima trovata possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali direi che ci siamo a livello estetico ci siamo mi piace è un orologio che apprezzo poi è un orologio che esula un pochino dalle solite misure e poi non è che bisogna sempre avere orologi dal diametro contenuto è un diver da 38 millimetri anche no per esempio secondo me sono un pochino pochi soprattutto con la ghiera girevole no non è questo il caso ma quelli da 38 con la ghiera girevole per me sono un pochino piccoli mi piace perché mi è sempre piaciuto a dire il vero però mi sto avvicinando anche al gusto panerai ad esempio piano piano in punta di piedi mi sto sto cominciando ad apprezzare anche i panerai solamente che sono rimasto un po' indietro perché li ho sempre snobbati mea colpa quindi non è che conosco bene tutte le referenze tutti i calibri sono un pochino indietro devo mettermi al pari come si suol dire ma col tempo ci si riuscirà torniamo a bomba all'orologio orologio che è bello è bello a me piace l'ho già detto ma è qualitativamente è ben costruito ha dei punti forti quali sono l'estetica la ghiera girevole interna il sistema di bloccaggio che è una tecnica abbastanza particolare che piace la il grip la corona con la gomma blu per aumentare grip è bella mi piace anche quella punti deboli se vogliamo le incisioni sul fondello ma tant'è e il bracciale del quale non si sa bene se possa poi andare bene anche per i polsi piccoli perché non c'è possibilità di togliere maglia io non ho fatto una prova su altri polsi ho provato sul mio e siamo quasi al massimo cielo lo accorso ancora di due o tre puntini e siamo a metà e va bene sul 19 poi quelli che hanno un 16 e mezzo ci starà consiglio la prova ragazzi perché questo qua è veramente un punto abbastanza però poi ci sono le versioni con il cinturino con i vari cinturini che mandate sul sito le vedrete no e quindi c'è poco da se non vi piace anche se non volete prendere col bracciale maglia milano lo prendete col cinturino che forse costa anche meno non ricordo neppure il prezzo e appunto ci sono anche varie versioni cromatiche un po per tutti i gusti che però la base di partenza l'essenza di tutti questi modelli è un pochino la sfrontatezza no è un orologio che deve deve piacere deve essere disposto ad indossare qualcosa di particolare non che sia un orologio futuristico o steampunk perché un minimo di canonicità continua ad averla no è un orologio quasi normale però ci sono dei particolari che lo rendono un pochino sopra le righe quindi non è per tutti nonostante questo per me l'orologio è promosso ed è valido boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi sia piaciuto il videino l'orologio il presentatore o uno dei tre a caso quindi vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica 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 musica